Longin Record, il perfetto equilibrio tra eleganza e prestazioni L'orologio da polso record è una testimonianza di eccellenza, unendo con maestria l'eleganza senza tempo e le prestazioni all'avanguardia. La storia dell'orologio da polso record è intrisa di prestigio e dedizione all'arte orologera. Da quando ha fatto la sua entrata sul mercato, il Record ha stabilito uno standard di qualità ineguagliato, rimanendo fedele all'arte dell'orologeria svizzera. Ogni dettaglio, dall'accuratezza dei movimenti all'eleganza del design, riflette l'impegno verso la perfezione. Il design del Record è una sinfonia di eleganza e funzionalità. La cassa, realizzata con precisione artigianale, abbraccia il polso con grazia e comfort. I dettagli del quadrante, arricchito da indici o numeri romani o arabi, riflettono un'estetica raffinata e leggibile. Le lancette, sottili e precise, scorrono con la maestria di un meccanismo svizzero di alta qualità. Molte celebrità di fama internazionale hanno scelto il Record per esprimere il loro stile distintivo e la loro classe senza tempo. Dall'alta società agli artisti di successo, molti hanno optato per il Record per la sua capacità di unire eleganza e performance. Indossare un Record è una dichiarazione di gusto e raffinatezza. Oltre al suo design raffinato, il Record è stato concepito con un occhio all'innovazione. Movimenti all'avanguardia, materiali di alta qualità e funzioni sofisticate si combinano per creare un orologio che va oltre le aspettative. L'orologio ha dimostrato di essere all'altezza dei record di precisione e affidabilità nel mondo dell'orologeria di lusso. In sintesi, il Record rappresenta un connubio ineguagliabile di eleganza e prestazioni. La sua storia di eccellenza, il design distintivo e l'attenzione all'innovazione lo pongono al centro dell'attenzione nell'universo dell'orologeria di lusso. Scegliere un orologio Record significa abbracciare l'eredità dell'arte orologiaia svizzera e indossare un'icona di stile e raffinatezza. Con la sua storia affascinante, il design raffinato e l'impegno verso la perfezione, il Record continua a brillare come una stella nel panorama delle opere d'arte da polso. Optare per un Record è un tributo alla bellezza senza tempo e all'artigianato di precisione.